Dove sei diretta se non sono indiscreto? Diretta no, cambio a Giubiasco. Vado non lontano dal lago. Davvero? Sì, perché? No, dico davvero, bisogna cambiare a Giubiasco. Sono secoli che bisogna cambiare a Giubiasco. Io vado a Reazzino. Anch'io! Ma lo sai che vestito così sembri uno di quei gangster usciti da un vecchio film? Com'è che si chiamava a te? No, 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 non dirlo, non dirlo. Lascia stare. Se ti dovessi chiedere come ti chiami, tu cosa risponderesti? Mi chiamo Ellen. Con l'h. L'h davanti. Bellissimo nome. Io invece mi chiamo... Com'è che mi chiamo? Steve. Steve Ballantyne. Ma tu puoi chiamarmi semplicemente Steve Ballantyne. Ok. Siamo già arrivati ad un quarto. Mettisco. Ehm. Ma tu puoi chiamare, Quo chiamare, che chiamare. Chiamare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un gatto? Una gatta? Però abbastanza lungo. E come si chiama? Gatta. Io lo chiamo gatta. Un bel nome per una miccia. Miccia? Vuoi dire che si chiama miccia? No, è impossibile. Come è assurdo il destino. Qui sul piano di Magadino gli oleandri fioriscono sempre. Dopo tanto tempo torno a rivedere questi posti. Ariazzino ritrovai me stesso. Steve, sei tornato fino a... Sapessi quanto oleandri, Betty? Perché indossi questo impermeabile? Vuoi dirti una cosa? Mi ha ancora gesti il bacio, mi ti prego. No. No, una volta era di... Una volta, una volta. Pensi solo al tuo interesse. Ma veramente sarebbe un mio diritto? Della nostra sorella rimane solo questo. C'era una volta. Sei un bastardo. Viene proprio fuori da uno di quei film ambientati a New York. E come? C'era una volta... Un'ottava. Sto perdendo tutto. Io vado in bagno. 1, 2, 3... Musica Musica